Sarà forse uscito a fare due passi e prendere aria, o forse alla ricerca di cibo, o forse avrà pensato, anche se in ritardo, di fare uno scherzetto di Halloween agli abitanti di Via Napoli. Il motivo della sua comparsa non c'è dato sapere, sappiamo di sicuro che c'era ed era anche in compagnia di un suo amico. Parliamo del ratto che vedete in queste immagini, inviateci da un residente di Via Napoli a Favara, a pochi passi dal municipio di Piazza Don Giustino. Le immagini sono state registrate giovedì scorso intorno alle ore 13 e 30. Abbiamo chiesto ulteriori spiegazioni al cittadino, ci ha riferito che era la prima volta che li vedeva camminare e che non aveva segnalato nulla al comune. D'altronde ci ha anche detto che dovrebbe essere dovere del comune eseguire la derattizzazione del territorio, indipendentemente dalla segnalazione del cittadino. E su questo non possiamo dargli torto. A dire il vero, altra segnalazione ci è pervenuta da Via Piersanti-Mattarella, dove il ratto, in questa occasione, è stato trovato morto, schiacciato probabilmente da un'auto. Segnalazioni anche da Via Giordano Bruno, dove la signora Bruno ha riferito dell'uscita di topi da una voragine creatasi in strada. Sono stati avvistati anche nell'area incolta nei pressi delle palazzine popolari di Piazza Donna Alberione. Con questo servizio vogliamo semplicemente dire agli amministratori comunali e dirigenti competenti che occorre programmare una urgente derattizzazione di tutto il territorio comunale. Troppi topi si stanno rivedendo in città. Non ci sembra alquanto normale avvistare dei topi morti o altri girovagare per le strade cittadine.